Musica Bentornati! Salve! Questo è... Kingdom? Qualcosa? Sapete perché? Perché lei ha avuto problemi terribili a dirlo Kingdom of Amalur Eccovi, ma come lo ricordavo Vabbè, è come Skyrim Diciamo che quello è il filone per noi che abbiamo subito Note positive La grafica Decisamente meglio Diciamolo Guarda che figona Che figona mi sono fatta Lascia subito notare che mi sono fatta le tette piccole Ma non ci ho provato a modificarle Non è da me Allora, note negative Cammina malissimo Questo vi faccio le parate Tanks Cammina veramente male Guarda, tac Mi nascondo Ma ci nascondino E basta Allora Note negative Guardate come cammino Voglio vedere come corro Brutta E poi sono ancora più discalzi Soprattutto hai dei fettoni micidiali al posto dei piedi Così sembrano i miei Ho già avuto alcune brutte avventure Sì, perché abbiamo scoperto Come con Skyrim Esatto Che è possibile derubare qualcuno O comunque aprire Forzare le serrature Delle cassaforti Per prendere il contenuto Però quello è considerato un furto Essendo considerato un furto Le guardie ti vengono a cercare Diciamo che è più facile uccidere le guardie qui Che in Skyrim Sì Ma se le guardie ti vengono a cercare È perché tu continui a commettere Omicidi su omicidi Se le continui ad ammazzare Solo che poi non puoi rientrare in città Per ridare alle quest Perché le guardie ti vorrebbero fare leggermente il culo Quindi alla fine Le guardie ti propongono Di andare in prigione O di pagare un tot Sì Per poter essere libero Guarda che figo Qualcuno stava sotterrando un cadavere Sì Infatti ho preso una letta Questa è un cimitero Perché ci sono le lapidi Guarda che figata Comunque alla fine ho convinto Il nostro amico qui a A costituirsi Sei veramente di una brutta Ti scancello degli amici Lo sai? Perché ti so per dire Skyrim Vabbè io Qui vabbè Ci sono i dialoghi Pi 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 Che ho fatto? Non ho preso la quest Sono imbecilo Che si assomiglia a Strike Se tu ci fai caso Eh Mo ti vuoi giustificare Non mi voglio proprio giustificare per niente Mi si è inceppata la lingua Per favore Per favore Vediamo una mano Abbiamo capito Vedi? Enter Enter Ah per Allora facciamo questa quest C'è in alto della mappa Dove andare Adesso andiamo A me Guarda 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 qua La coquaraccia lì Quella sorta di pennuto Scappa il pennuto Caccia il pennuto Com'era quello? No Arraffa il pennuto Questi Facciamo vedere la mappa Che si sposta Un perfetto stile Gioco di ruolo Allora Dobbiamo andare al nord del paesello Vai Arraffa il pennuto C'è una questa Però vogliamo fare questa in culonia Facciamo questa in culonia Vai Graficamente mi piace di più di Sky Ecco per esempio Questa corsa stile Guild Wars Sì stile Guild Wars Stile Lineage Piegati a 90 gradi in avanti Non è proprio È per essere più veloci Non è proprio una cosa finissima Forse la storia Potevo prendere Allora c'è una molta O meglio Mi piace di più il setting Sì Diciamo che c'è una sensazione di Open world Che titoli come Indovina un po' uguale Swator Si sognano Cioè questo è un gioco single player Oddio Ho più libertà Ma una sorta di stregone questo Sì ho fatto Mezzo mago Non tu Quello che hai appena ammazzato Non lo so al frattempo Gli ho fatto il culo Così impara per i mezzi Ecco qua Diciamo che ci sono tante cose Che mi sono piaciute Come ad esempio La possibilità di fare le pozioni Perché È estremamente simile A Monster Hunter Quello che sentite in sottofondo È il tuo telefono È il mio? Sì Sono cercatissimo io Ma come mai No è il mio Ti ho detto che era il tuo Sono io Ma questa è È ricercatissima Chissà Ah No Sono entrato nello stato Quello Ubo No Sì Questo è Questo è lo stato In cui fate il culo A chiunque Questo Mi ricorda invece Oggi Il mio cervello È annebbio dalla neve Assassin's Creed Te l'ho detto prima Voglio dire Sono uscito Dallo stato Super Ubo Vedi È una sorta di stregone Ci rientro Allora Non mi ciò più di dentro Perché mi ho già spiegato Tipo occhio dell'aquila Com'è che si chiama Quella modalità lì Non me lo ricordo Faccio mia colpa Di non ricordare Di non ricordarmi Oggi Abbiamo preso freddo Abbiamo preso freddo Allora Dovete sapere che fuori C'è una tormenta Non è che neve C'è una tormenta Abbiamo preso freddo Siamo giustificati Cosa che in una città di mare Non si vede mai Cioè ci facciamo Quell'insultato Vabbè Andiamo avanti Anche qui Dialogo 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 Siccome loro non lo sentiranno Nel dialogo Io faccio delle domande Per fare la proseguire Avanti la trama No Dove cazzo sta Hai sbagliato a preme No Follow Lo devo seguire Vedi E allora Follow Guarda che figo No Mi piace molto di più Il setting così Questa tipologia qua Sai che dovrebbe esserci Per console Anche se noi ci stiamo Giocando su pc Questo lo possiamo specificare No Che sono questi No Chi sono I brownie Come biscotti I moonlock Di sto gioco Ovviamente Sì ma si chiamano Come i biscotti Sì però Si assomigliano pure Sì Tipo gremlins Sono questi Ma è notata La mia agilità Muoviti 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 Non mi far accogli Ovviamente no Aspetta Finisci la quest Dopo raccogli Quello che ti pare Scusami un po' Sì sono sorta di stregonazzi Vedi c'hanno La maschera davanti Guarda che brutti Stregoni Lucicosi Oh Come cazzo ha usato Questo Non lo so Quindi Le spell Si lanciano col mouse Tutto col mouse Ok Tutto col mouse Però non è Punto e click Cosa che Punto e click Un gioco occidentale Wow Non c'è mai da fidarsi M M Ah per il fast travel Ok Perfetto Io ora colgo qualcosa Quello aspetto Sei ricercatissima Lascia un vasto pubblico Che lo segue Intensamente Ma che stai a dire Con il cuore e la mente Come se Tu fossi qui E proprio perché tu sei qui Non ho capito Che fa Magli avanti eh Sì certo Ecco Uno dei rari caricamenti Di questo gioco E anche veloci Vorrei dire Ti volevo ricordare I caricamenti Di suotero Ogni 3x2 No Allora I caricamenti Da 2 minuti E no Devi fare skip 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 Per schippa Eh Ho giocato Quello una spalla Così spalla Che muovi il culo Hai schippato troppo Eh Ho preso troppo Ah wow Qua è una pianta nuova Non ci hai trovato Una mazza Detto tra di noi Ovviamente Il nostro italiano Lascia desiderare Non è che di solito Sia meglio però Mi si è congelato Il cervello Che ti devo fare Eh Ok lo ammazzate Quindi vedi Lo vedi da qua Che livello sei 2 Lo potete Immaginare Che il gioco L'abbia iniziato Adesso Adesso Ho provato a giocare Un po' ieri notte E non ce l'ho fatto Io ieri notte Dormivo allegramente Ah figo figo Questo è una cosa verde Inventario Inventario Così faccio vedere Anche l'inventario Armor Qui vi dice Quello che avete Mi piace questo inventario Lo sai Propriamente metto Equip Potete compararlo Ma sicuramente è meglio Vedi c'ho anche Un coso socket Yeah Inventario abbastanza Abbastanza Anche i suoni Mi piacciono Tanto Abbiamo capito Viva questo Basso sky L'intenzione Di chi l'ha Realizzato Ma Ha fatto bene Wow Cos'è Non lo so Io Prendo questo E poi Che cos'è Ti potrei bollire D'acqua Puzza Con le aeree Prendete le pozze Wow Cos'era È un po' Pandora Effettivamente Adesso Dai che carino Come idea Sai che c'è il gioco Di Pandora Per console Queste lucine Ah infatti Queste lucine Si animano Quando sei magico Infatti mi ha fatto Pensare a Pandora Durante il Prima che me l'hai ricordato Durante il Il tutorial È un po' Un fritto Un fritto misto Di cose Mi ha fatto bene Però eh Ah si Mi fa anche di merda Water Tipo per esempio No cos'è Un acquacuaraccia Semiumana Che merdina Dove ci porterà Questo Oh ma sai che abbiamo perso anche degli iscritti Nel nostro canale Ma se Diciamo che Cioè voi perdete tempo a guardarci E già lo siete normali Poi vi cancellate Per mostrare gli normali Non è che va bene tanto così Ma apro questo Noi qua c'è un Ecco Ah vedi Sono tipo a protezione A protezione Ma io adesso faccio I Perché su un'istruzione Qui si blocca tu Armolo Mi metto il capuccello Che le dici Ah no Sei scorsa Non me lo posso mettere Qui poi Ti volevo dire Che stai per morire Ok Prendo subito una pozza Inventario Consumabili Prendo una super pozza Farà effetto Appena eri entrati in gioco Sì Sì Questa è una delle Fatine brutte Sì perché poi Fatine? Malvagie Fai malvagie Se Ha fatto un rutto Una sorta di ruttazzo Cioè non siamo stati noi Ve lo assicuriamo Cioè vabbè Se l'avete sentito Vi direi che adesso Le fatine hanno appena fatto un rutto Comunque ti volevo Esporre il mio pensiero Noi diciamo Tanto male Di giochi molto popolari Ah Quindi Noi si sono cancellati Dopo che abbiamo detto male Di Final Fantasy Vero? Fa cacare Volevo dire Cioè poi La dimostrazione Che non è un gran prodotto È il fatto che adesso Hanno annunciato Che Fanno il merge Di alcuni server Per esempio Per esempio Da 18 a 10 server Da quando hanno rimesso il modello a pagamento Da quando hanno rimesso il modello a pagamento Ha già detto Sì col cazzo che ti do Ah questo Ah si salta con la F Qui guarda Ole Ah va fai anche la capriolazza Quindi credo che Che sia per queste affermazioni Che facciamo Quindi 3x2 Questo fa cacà Questo non ci piace Questo è una merdaccia E guarda Rispetto alla media Della gente che fa Noi giochiamo E ci divertiamo E vogliamo E lo raccontiamo In giro Sì Ci divertiamo Ci divertiamo e basta Quindi il nostro scopo Non è fare una recensione Conoscere delle persone Che condividono la passione Per i giochi Tipo la tipa Tipo la tipa Che bello Grandissimo Ah Non si è fritto solo al mio cervello No 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 Anche a me Quella di Alicia Online Sì Adesso ha fatto 14 livelli All'otro Complimenti Speriamo di rivederti in game A proposito E che aspettiamo Per fare una puntata Live Del gioco coreano Ma anche non live Voglio dire Anche una puntata di lotro Sì Basta che ci fa sentire la voce Per essere sicuri che ce l'ha Così Per sapere Poi ciò puoi dire Se non ce l'ha Non è che Non è un problema Bla 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 Ok Questo è un po' un bell'imbutto C'è capito Uno Schwarzenegger Dei primi Primi tempi Tu lo sai che il gatto Ha appena acceso la televisione Sì Ho un gatto che accende la tv Vogliamo fare qualcosa? No Continua A prendere questo Bla 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 Però mi piace questo trucco che hai Ho fatto un bel trucco Sì Grazie Ciao Che devi fare adesso? Dobbiamo seguirlo Ancora Back to the mission Sarà lunghissimo questo video Temo E vabbè Diciamo Incazzate un po' più del solito Che vogliamo fare? No vabbè nulla Eh Ah abbiamo provato per fare dei live Ci abbiamo rinunciato Sì Un po' per la qualità Definitivamente Sì Un po' per l'inevitabile Causa di qualità Abbiamo fatto tanto per migliorare la qualità dei video Ma abbiamo scelto questa soluzione Proprio per migliorare la qualità dei video Torniamo come eravamo prima Non mi sembra il caso Non fa per noi No Perché per renderlo fruibile recentemente Bisognerebbe fare un servizio a pagamento E già investiamo il nostro tempo Che è comunque da raro A pagamento non esiste Ci compriamo i giochi Non è un servizio vero Appunto non esiste Diciamo che nemmeno Flapps è troppo Oh poi voglio dire Magari un giorno Favamo i milioni Favamo i milioni Ci lo possiamo permettere Mo non lo possiamo fare Quindi Mo vuol dire adesso C'è ragione Adesso non lo possiamo fare Scusateci Il freddo regna sola No Questa era la mia No Ancora Scusate Beh io c'ho la frenzy Da clickers Era comunque il mio momento culturale Ah il tuo momento Lo dividiamo con Le culture Sì Ah c'è un Un'altra No Ah c'è una Apriamo aprirlo Very easy Ecco qua Quello che vi dicevamo prima Cioè Scassinare davvero Mica per finta A quale è aperta No No Ecco rotto Oh ha detto Very easy Very easy Oh Hai visto Pure Inventato Le scappettals Le scappettals C'è per se la mente Finalmente Avere delle scarpe Perché sono su weapon Avere delle scarpe Perché questi piedi Sono orridi proprio No Eccoli No Ciabattine No Suorgi Abbiamo l'infradito L'infradito di suorgi Ah boh Meglio dei piedi nudi Eh L'infradito di suorgi Sono meglio dei piedi nudi Ah Abbiamo rivellato Così facciamo vedere Anche Il L'albero Genealogico Fantastico Esk Allora Qui avete Ritendo il menu Level up E potete scegliere In cosa aumentare Sì ma vedi che Questi qui sotto Sono più illuminati Di quelli sopra Perché quelli si possono Perché sono consigliati Ah ecco Però poi puoi fare Quello che ti pare Yeah Ok Ti lo metto a sagecraft E ovviamente Aumento Non le spell A questo punto Aumentiamo le spell Di sorcery Sì mi piace di più Questo Di quei 5 punti Di abilità Quindi io Quanti punti? 3 punti 3 Posso mettere Un altro qui E sbloccare Marco flame Con sempre Il casting Non so Di mettere qualcosa Di arcare un weapon Questo mi sblocca 20 punti Hai deciso? No Bene È una cosa piuttosto Decisora Perché mica Si può prendere così La leggera Hai ragione Staffa Chakrams Che cazzo Di available Io metterebbe Io metterei A continuare Meno male Mi sembra Una buona Ok Poi quando scoprò Cosa è un Chakrams E qui posso Posso continuare Io ho preso Il mio destino Il mio destino Abbiamo finito La quest Si poi c'è un altro tizio Qui sotto Che c'è una quest Però Direi che qui Possiamo concludere La nostra registrazione Grazie a tutti E alla prossima Ciao Ciao ciao